ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio parlare di eziviz smart home sensor kit un piccolo impianto d'allarme che si installa con tantissima facilità dotato di diversi sensori più di 60 addirittura sensori in movimento sensore di apertura porta e finestra un pulsante di emergenza moon gateway e poi abbiamo anche più di 60 sensori appunto per rilevamento di acqua temperatura eccetera eccetera quindi un sistema anti intrusione un sistema di sicurezza compatibile con le telecamere eziviz che già vi ho fatto conoscere che sono ormai le mie telecamere di riferimento quindi ho tutto con il laboratorio cinque telecamere puntate perché un sistema che funziona molto bene eziviz la trovate anche oltre che online anche nei negozi fisici già più di una volta che ho fatto vedere delle riprese e ho acquistato pure delle lampade altre cose di questo prodotto proprio nei negozi fisici della mia città perché un marchio che stimo oltre a recensirlo ai prodotti che mi mandano ho acquistato più di un prodotto perché vi ritengo davvero validi ma voglio farvi vedere come funziona voglio far vedere le sue caratteristiche e farvi capire effettivamente quali sono le sue potenzialità il costo è basso per un impianto di allarme 150 euro effettivamente 160 ci dà la possibilità di rilevare eventuali intrusioni di interagire con l'applicazione vedendo scritto sull'applicazione cosa è stato violato quindi se è stata aperta una un'altra finestra se c'è un rilevamento di una presenza umana insomma diversi sensori che comunicano tutti con la stessa centralina e che ci fanno capire effettivamente cosa sta accadendo essendo edizio dato che produce delle telecamere essendo compatibili con le stesse è possibile anche collegarle quindi vedere anche dalla telecamera quello che sta succedendo quindi noi riceviamo la notifica sul nostro telefonino contemporaneamente suona l'allarme capiamo dall'applicazione cosa è stato violato possiamo guardare dalla telecamera cosa sta succedendo e quindi siamo al sicuro è il tasto di emergenza quindi il tasto per attivare e disattivare l'allarme può essere utilizzato in caso di necessità se è impostato dall'applicazione quindi se stiamo presente con degli anziani o dei bambini possiamo lasciarli questo tastino nel caso in cui ci sia bisogno basterà premerlo per chiamare aiuto quindi secondo me è un prodotto molto comodo studiato bene ancora in fase di evoluzione perché comunque un prodotto nuovo ma che già comunque mi sta piacendo quindi se avete bisogno di un allarme facile da installare guardate questo video perché potrebbe essere la vostra soluzione vi ricordo che vi lascerò anche un link giù e che vi eventualmente se riesco a ottenerlo vi lascerò anche un codice di sconto quindi guardiamo come funziona e allora questa è la confezione con cui viene venduto apriamolo all'interno troviamo subito vari sensori e tutto ciò che serve per utilizzarlo cominciamo a togliere tutto il contenuto mettiamo sul bancone e vediamo come funziona e allora l'interno della confezione quindi troviamo tutti questi accessori più un manuale di istruzione una guida rapida un alimentatore è un cavo usb per poterlo alimentare micro usb si tratta quindi di un piccolo impianto d'allarme i sensori in dotazione in questo caso sono solo due quindi un sensore ad infrarossi che ci permette di rilevare eventuali passaggi di essere umani è un sensore di apertura per porte e finestre che consiste nell'utilizzo di queste due parti che una volta allontanate fra di loro trasmettono il segnale quindi attivano un allarme all'interno di quest'altra bustina invece troviamo alcuni adesivi anche se in realtà sono anche magnetici ma troviamo degli adesivi e poterle attaccare eventualmente delle superfici e se non vogliamo utilizzare gli adesivi possiamo utilizzare la parte magnetica per poterlo posizionare su tutte le superfici metalliche ma andiamo direttamente al dunque quindi accendiamo tutto ciò che c'è da accendere vi faccio vedere come si configura e le varie funzioni questa è l'applicazione della esibiz per una questione di privacy ho disattivato alcune telecamere tranne quella esterna ho già collegato all'alimentazione elettrica quindi inserisco la micro usb da questa parte come vedete si accende questo anellino all'interno della confezione c'è anche una guida rapida che ci aiuta nell'installazione scritta anche in italiano però proviamo ad aggiungere un nuovo dispositivo quindi mi chiede che tipo di dispositivo sia a questo punto allarmi e sensori mi richiede di inquadrare il piccolo codice qr presente nella parte posteriore ok adesso dovrebbe associarlo in pochissimo tempo già riconosciuto di quale dispositivo si tratta il dispositivo è acceso avanti confermiamo tutte le varie richieste in questo caso mi chiede se l'anello lampeggia di bianco gli dico di si ha già trovato la mia rete wifi quindi idolo ok a questo punto diamo la conferma per consentire l'accesso connessione wifi ok si è già connesso quindi diamo un nome ok dopo diverse conferme vocali in inglese a questo punto mi dà la possibilità di cambiare nome io l'ho rinominato in senza orchid ok tutto completato avete visto nel frattempo l'anello cambiava colore in base a ciò che stavamo facendo adesso andiamo su visualizza dispositivo senza orchid quindi cliccando sopra abbiamo la possibilità di aggiungere dispositivi secondari smart mi avvisa quindi che non c'è nessun sensore collegato andiamo su avanti mi chiede se voglio utilizzare delle sederature intelligenti che comunque vi farò conoscere in futuro oppure allarmi e sensori mi dà di nuovo la possibilità di aggiungere questi dispositivi utilizzando il codice qr che troviamo però all'interno ruotandolo in questo modo quindi lo inquadro ovviamente funziona batteria abbiamo una batteria a bottone da questa parte per poterlo attivare sarà necessario rimuovere questa linguetta andiamo su avanti quindi avanti e a questo punto mi dice che devo premere il pulsante di ripristino oppure inserire lo spillo affinché non lampeggi quindi togliamo di nuovo questa parte cerchiamo il pulsante di ripristino che questo ok sta lampeggiando quindi posso richiuderlo abbino anche il pulsante anche in questo caso devo premere il tastino che si trova da questa parte ovviamente il sensore in questo caso rileva il mio movimento quindi vedete quanto sia effettivamente efficace però abbiamo la possibilità di utilizzare eventualmente questo altro accessorio che serve per schermare una parte mettiamolo così ok in questo modo riesco a evitare con questa schermatura e mi rilevi almeno spero adesso invece utilizziamo questo altro sensore aiutatevi con un piccolo cacciavite rimuoviamo la linguetta protettiva anche in questo caso dobbiamo premere il tastino e poi inquadrare il codice qr ok allora abbiamo qua delle icone che mi fanno capire che ci sono degli aggiornamenti in corso quindi vediamo di cosa si tratta si aggiornamento della versione firmware quindi facciamo tutti i vari aggiornamenti perché in questo caso avremo delle funzioni in più eccetera quindi non scollegare il dispositivo avvio aggiornamento e allora ragazzi ho completato tutti i vari aggiornamenti adesso voglio farvi vedere le varie funzioni sia dell'applicazione che come funziona tutto il sistema abbiamo questo abbiamo detto che il sensore di porta e finestra l'altro invece che serve a rilevare eventuali intrusioni volo girato verso quella parte altrimenti non mi farebbe parlare allora facciamo la simulazione di un'apertura di una porta una finestra una tapperella qualunque cosa mi dia possibilità di accedere all'interno di un vano queste due parti per ora sono vicine fra di loro ma se si trattasse di una finestra una volta aperta come vedete abbiamo l'allarme abbiamo la notifica sul telefonino e se vogliamo possiamo anche disattivarla appare quindi la notifica ci dice che è stato aperto se ne abbiamo più di uno intanto silenziamo se ne abbiamo più di uno possiamo anche rinominare i singoli dispositivi per sapere quale finestra è stata aperta e fino a quando non vengono riavvicinati anche se abbiamo disattivato l'allarme comunque avremo la notifica e l'icona di colore rosso che ci indica che la finestra comunque quello che sia è aperto una volta riavvicinata come vedete si è richiuso la stessa cosa per quanto riguarda il sensore ok possiamo disattivarlo quindi sia da qua ma eventualmente se allontaniamo ci indica sia la porta che la finestra silenziamo il tutto ok quindi abbiamo la possibilità tuttora di avere comunque il sensore che ci indica che c'è una persona all'interno dell'ambiente e l'altro sensore che ci indica che la finestra è aperta nonostante glielo abbia silenziato e come vedete anche se non sono messi nella posizione corretta quindi anche se sono spostati di lato in questo modo comunque indica che sia chiuso per evitare dei falsi allarmi funziona solo se effettivamente si allontanano e la cosa bella che nel caso in cui dovessimo richiudere la finestra o la porta scusate ma lo devo silenziare ok nel caso in cui qualcuno apra e richiuda la finestra un allarme comunque continua a suonare e vi avvisa che comunque c'è stata un'intrusione quindi ideale anche nel caso in cui qualcuno faccia solo un tentativo di intrusione e sappiamo che qualcosa è stato violato questo invece come vi dicevo serve ad attivare disattivare l'allarme quindi premendolo una volta avremo questo suono che ci conferma che è stato attivato premendolo due volte invece lo disattiveremo il suono cambierà e premendolo tre volte nel caso in cui ci sia un intrusione quindi in questo caso non sta suonando nulla perché ho premuto due volte ed è disattivato premendolo una volta lo riattiverò e quindi dovrebbe suonare ok possiamo disattivare quindi il nostro allarme premendolo tre volte andando all'interno delle impostazioni possiamo anche associare una telecamera quindi andiamo nei vari dispositivi andiamo nelle impostazioni ok silenziamolo e giriamolo verso di qua altrimenti non posso parlare allora possiamo anche collegare una telecamera io ho collegato attualmente la telecamera che ho all'esterno in questo caso invece non ho collegato ancora nessuna telecamera come vedete posso scegliere o la telecamera d'esterno oppure quella che tengo qua all'interno del mio piccolo laboratorio e che quindi deciderò di collegare potete collegare anche diverse telecamere se ne avete più di una in modo da avere l'allarme in una stanza ma potete eventualmente sorvegliare anche altri ambienti per esempio la porta di accesso lo spazio in esterno è una all'interno dell'ambiente nel quale si trova lo stesso allarme infatti in questo ha collegato questa piccola telecamera invece se per esempio andiamo sul sensore di movimento come telecamera collegata abbiamo quella in esterno quindi in questo caso abbiamo diverse possibilità possiamo decidere dove inquadrare ovviamente la telecamera deve essere compatibile perché non tutte le telecamere della exibiz sono disponibili con questa funzione e non tutte con i vari dispositivi per quanto riguarda quindi la nostra centralina è possibile anche collegarla tramite cavo ethernet oppure collegarla tramite wifi e gestire tutti i dispositivi ben 60 che possono essere compatibili con questo smart home sensor kit allora disattivo quindi l'allarme premendo due volte ok così non suonerà quindi per quanto riguarda il nostro sensore abbiamo la possibilità innanzitutto del rimuovere questa pellicola protettiva che io ho lasciato ma che sto rimuovendo immediatamente e l'abbiamo la possibilità di schermare una parte che noi non vogliamo che venga rilevata nel caso in cui abbiamo animali domestici oppure bambini che scorassano che sono autorizzati ad entrare in un determinato ambiente ma vogliamo rilevare se per esempio entra un adulto o tante altre situazioni oppure messa in questo modo se noi abbiamo una zona che vogliamo delimitare nel senso verticale se noi ci spostiamo entriamo in una stanza fino a un determinato punto ma da quel punto in poi abbiamo per esempio il nostro computer abbiamo un macchinario al quale non deve avvicinarsi nessuno abbiamo dei dati sensibili allora verrebbe rilevato solamente il movimento una volta o trepassato questo limite nell'applicazione nelle manuale di istruzione sul sito internet ci sono anche diverse indicazioni sull'altezza corretta in base al tipo di utilizzo che se ne deve fare e tramite la nostra applicazione possiamo anche decidere per esempio una programmazione nella quale si attiverà disattiverà automaticamente se abbiamo una routine nella quale rispettiamo determinati orari e quindi il nostro allarme si attiverà solamente in nostra assenza ma se dovessimo decidere per esempio di attivarlo in un determinato momento potremmo farlo tranquillamente dalla nostra applicazione considerando che si possono attivare diversi sensori che si possono associare diverse telecamere secondo me pur essendo un piccolo impianto di allarme sicuramente non professionale però dalla possibilità a tante persone di tenere sotto controllo i propri ambienti sia in modo visivo tramite l'applicazione che tramite un sistema di allarme sonoro e di sensori di diverso tipo anche di temperature sensore di acqua eccetera che possono essere davvero molto utili in alcune circostanze ma si possono anche associare per esempio delle serrate delle smart infatti avrò la possibilità a breve di testarne una vi farò pure un video su questo tipo di dispositivo ma e zuvizie si sta allargando a proposito di smart home questa smart home sensor kit ma produce sta iniziando a produrre anche dei dispositivi specifici per la casa per esempio ora io ho la possibilità di testare anche un nuovo tipo di aspirapolvere sempre della stessa azienda che oltre ad aspirare come le normalissime aspirapolvere si può utilizzare anche per lavare ma un sistema particolare perché ha un rullo per ruota mentre aspira butta dell'acqua quindi c'è la possibilità di lavare per esempio il pavimento anche che sia eccessivamente sporco in modo da utilizzare l'acqua per pulire lo sporco il detersivo in modo da detergere e la stessa acqua sporca viene aspirata lasciando il pavimento perfettamente pulito tra l'altro anche questo è dotato di diversi sensori a un display molto luminoso grande e ricco di funzioni con un anello colorato che ci fa capire pure la qualità di pulizia del nostro pavimento e ci permette di pulire le nostre abitazioni i nostri uffici i nostri laboratori eccetera non dovendo utilizzare obbligatoriamente il mojo perché in quel caso come sappiamo con il mondo si pulisce ma è necessario fare diverse passate e il mojo non raccoglie il modo semplicemente viene strofinato passando l'acqua pulita rimuove lo sporco ma è un'azione meccanica invece con una lava aspira abbiamo la possibilità di bagnare il nostro pavimento detergerlo e quindi poi rimuovere lo sporco raccogliendola all'interno di una vaschetta che poi va svuotata e quindi ci permette di ripetere questo lavoro in diverse stanze avendo sempre il rullo pulito anche perché alla fine del lavoro una volta riposto nella sua base di ricarica si attiva automaticamente la funzione di auto pulizia del rullo quindi esvizzi si sta espandendo macchia d'olio e ci dà la possibilità di avere sia impianti di video sorveglianza in questo caso impianto di allarme oppure anche elettrodomestici che ci aiutano in casa e allora ragazzi quindi come impianto di allarme avevo visto che effettivamente è comodo pratico da utilizzare funziona tutto molto bene è ovviamente non è un impianto di allarme professionale però per tutte quelle situazioni nelle quali noi abbiamo bisogno di tenere sotto controllo degli ambienti possiamo installarlo con molta facilità e possiamo anche spostarlo da un ambiente un altro per esempio io ho bisogno di tenerlo qua nel mio laboratorio ma nel caso in cui dovessi uscire da casa o nel caso in cui volessi comunque tenere sotto controllo il coperchio dell'incisore laser allora potrei mettere questo sensore direttamente nel mio incisore laser e se qualcuno deve sapere il coperchio avrei comunque una notifica di apertura dello stesso quindi diciamo che è molto versatile poi avendo diversi sensori che si possono associare nell'applicazione abbiamo comunque l'indicazione di cosa sta succedendo io penso che potrebbe essere una buona soluzione se vi è piaciuto il video fatemelo sapere scrivetelo nei commenti ma ricordatevi anche di lasciare un like iscrivervi al canale mettere lo segno di spunta sulla campanella e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto